Amici, ex allievo del talent si mostra sui social l'inferno attraversato per le complicazioni post-Covid, video. Uno storico ex allievo di amici è tornato sui social visibilmente provato e dimagrito dopo aver vissuto mesi davvero infernali per via di alcune gravi complicazioni post-Covid. Pasqualino Maione, terzo classificato al talent show di Maria De Filippi alle spalle di Marco Carta e Roberta Bonanno. È stato ricoverato per diversi mesi in ospedale a causa di un'infezione a midollo spinale e cervello. Il calvario del cantante di Amici è iniziato la scorsa estate. Il 22 agosto da un letto di ospedale, con la flebo al braccio avvisava tutti di stare attenti al Covid. Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro. Ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante, state attenti a questo maledettissimo Covid. Io l'avevo sottovalutato, ma da dieci giorni sto passando l'inferno. Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi. Dopo una lunga assenza, a ottobre il giovane cantante raccontava di trovarsi ancora in ospedale. Dopo due mesi di ricovero domani finalmente ritorno a casa anche se sono debole e visibilmente dimagrito. La convalescenza sarà ancora lunga, ma ritornerò presto più forte di prima. Un abbraccio a tutti voi e grazie per i numerosi messaggi di guarigione e affetto. Vi voglio bene, ci vediamo presto. Grazie.